Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Di nuovo vi faccio una premessa, continuo a essere malata esattamente come nel video di lunedì. Insomma, questo video preparatevi perché non sarà semplice da registrare per me ma non sarà neanche semplice da ascoltare per voi. Detto questo, diamoci dentro col video. Questo è un caso particolarmente intenso, sono certa che vi sconvolgerà con le sue dinamiche intricate, con la sua feroce e motivata e con gli interrogativi profondi che suscita. Parliamo della famiglia Mauerova. Vi anticipo che alcuni dei suoi membri hanno davvero perso il senno e arrivano a compiere varie nefandezze ai danni di due bambini di 8 e 10 anni. Ripercorriamo ora il background dei componenti di questa famiglia. Clara Mauerova nasce il 30 gennaio del 1975 e cresce a Bernou, la seconda città più grande della Repubblica Ceca. Oltre ai suoi genitori, il nucleo comprende anche due fratelli maggiori e due sorelle maggiori, tra cui la più grande, che è Caterina, nata il 7 agosto del 1973. Vi dico il suo nome perché lei giocherà un ruolo importante in questo caso. La famiglia è molto unita e nel tempo libero va sempre in gita o in vacanza. Clara è una ragazza estroversa e atletica, anche Caterina ama passare il tempo all'aria aperta, ma la sua più grande passione è la lettura. Un'altra sfera importante per la famiglia è indubbiamente la religione. I Mauerova vanno in chiesa ogni domenica, le ragazze frequentano anche la scuola domenicale e fin dall'infanzia vengono allevate nel rispetto dei dieci comandamenti. Quando diventano adolescenti la loro devozione per la fede diviene estrema. Infatti sia Clara che Caterina iniziano a fare sogni rivelatori e ad avere visioni che, secondo loro, si manifestano soltanto agli eletti. Clara in particolare pensa di essere destinata a compiere una missione speciale per Dio. Ne parla spesso, crede addirittura di avere dei poteri divini. Un giorno viene sorpresa mentre prova a soffocare sua sorella Caterina con un cuscino nella convenzione di poterla poi riportare in vita. Fortunatamente gli adulti della famiglia intervengono prima che accada la tragedia, ma già da questo aneddoto potrete comprendere quanto sia fanatica e pericolosa la convenzione di Clara. Anche Caterina è della stessa idea, infatti a scuola entrambe le sorelle dicono a chiunque di essere le prescelte, dotate di poteri divini. Le loro insegnanti, preoccupate da simili deliri, contattano gli assistenti sociali. Nasce il sospetto che Clara e Caterina soffrano di schizofrenia, quindi gli assistenti sociali contattano i genitori delle ragazze e li raccomandano di farle visitare da uno specialista, ma la madre si rifiuta categoricamente. Preferisce ritirare le figlie da quella scuola e iscriverle a un'altra, quindi la loro condizione non verrà mai esaminata adeguatamente. Senza il supporto delle cure opportune, la situazione peggiora. Arriviamo alla metà degli anni 90, quando Clara ha 18 anni e si è completamente allontanata dalla sua famiglia. Non parla più con nessuno degli altri componenti, nemmeno con la sorella Caterina, ma inizia una relazione con un uomo di nome Radek Kufal. La coppia si sposa rapidamente e nell'arco di due anni mette al mondo due bambini. Clara ha 20 anni quando partorisce il primo genito, Jakub, mentre il secondo figlio si chiama Ondrej. All'inizio quello tra Clara e suo marito è un matrimonio felice. Si stabiliscono in un nuovo appartamento mentre lei frequenta l'università per conseguire una laurea in economia. Una volta concluso il percorso di studi trova lavoro come segretaria. Tuttavia, come accennato, si sospetta che Clara soffra di una schizofrenia non diagnosticata e, un po' di tempo dopo, quando ha 26 anni, la situazione peggiora drasticamente. Clara rincomincia a delirare, dice di avere delle visioni che le ricordano di essere in missione per conto di Dio, anche se il matrimonio e i figli la stanno distraendo da questo compito. Così Clara rinfaccia al marito di impedirle di compiere il suo destino e, da questo momento, i litigi e le discussioni diventano una costante. Radek non ce la fa più a sopportare le affermazioni di Clara e chiede il divorzio. Lei allora si allontana con i due figli e prende a rifrequentare la sorella Caterina. Le ragazze si trasferiscono insieme ai bimbi in un altro appartamento. Anche in quest'altra convivenza all'inizio va tutto bene, le due sorelle e i ragazzini sono molto uniti, Clara è una mamma fantastica, Caterina è una buona zia e Jakub e Andre crescono felici. Il primo adora il basket, i dinosauri e suonare il flauto. Il secondo predilige lo sport, ama l'hockey e stare all'aria aperta. Dunque Jakub e Andre sono due bambini adorabili e che vengono accuditi adeguatamente. Ricevono tutto l'amore e tutte le attenzioni di cui hanno bisogno. Caterina, intanto, è diventata manager di un asilo e presto procura un impiego anche a Clara nello stesso centro. Dunque ora le due sorelle vivono e lavorano insieme. Tutto potrebbe andare alla grande, ma purtroppo i disturbi psichiatrici di cui è affetta Clara non possono sparire dal nulla. Lei non riesce a sfuggire alle illusioni, alle voci che esplodono nella sua testa e le difficoltà aumentano nel corso degli anni. Un giorno Caterina comunica a Clara che nel centro in cui lavorano è arrivata una ragazzina un po' più grande. Una tredicenne norvegese che ha avuto un'infanzia difficile e che ha tanto bisogno di essere accudita. Il suo nome è Aniska, ma viene soprannominata Anna. Come accennato, ha avuto una vita travagliata. Entrambi i suoi genitori sono morti quando era molto piccola e da allora ha vissuto in diversi orfanatrofi, dove ha subito terribili... Dopodiché, insieme ad altri bambini, Anna è stata venduta a una rete di pedo e sottoposta a ulteriori molestie intime e totale che fanno orrore al solo immaginarle. Ha dovuto partecipare anche agli amici e ai maltrattamenti praticati sugli altri bambini. Fortunatamente è riuscita a fuggire e ha trovato un medico specializzato proprio nell'aiutare i bambini con trascorsi traumatici. Il medico ha seguito Anna nel suo percorso di guarigione, ma purtroppo è emerso anche che la ragazzina è malata di leucemia ed è improbabile che sopravviva oltre i 16 anni. Anna soffre anche di un'insufficienza renale e sta lentamente perdendo l'udito e la vista. Cerca ancora disperatamente qualcuno che l'adotti. Caterina, affranta dalla terribile storia di Anna, la presenta a sua sorella Clara nella speranza che lei voglia adottarla e darle tutto l'amore e tutte le cure di cui la sfortunata ragazzina ha bisogno. Clara accetta immediatamente e avviano il processo di adozione. Nel settembre del 2005 Anna inizia a vivere con la famiglia di Clara e poco dopo comincia anche il suo trattamento chemioterapico. Anche se è Clara che adotta legalmente Anna, l'unica persona a cui è permesso di portare la ragazzina in ospedale è Caterina. Il dottore dice che aveva aiutato Anna nel suo percorso di guarigione psicologica, di cui non sappiamo il nome, è lo stesso che la sta curando per il suo cancro. Il medico però è entrato in contatto con Clara, che è il tutore legale di Anna, solo tramite sms. Non si sono mai incontrati dal vivo, il che è strano. Il dottore invia a Clara istruzioni via messaggio su come prendersi cura di Anna. Scrive che a fronte del passato traumatico da lei vissuto ha necessità di tanto amore, di attenzioni, ma anche di ricevere lodi costanti. Clara viene incaricata di ricordare continuamente ad Anna che è straordinaria e di comprarle regali ogni giorno. Il medico spiega a Clara che per ragioni di salute deve pure praticare ad Anna dei massaggi su tutto il corpo, compresa la zona intima. Pensate che questi massaggi talvolta durano ben otto ore. Tutto ciò è assolutamente bizzarro e, secondo gli amici di Clara, anche Anna stessa lo è. La ragazzina fissa sempre il pavimento, non stabilisce alcun contatto visivo con nessuno e si rifiuta di camminare anche se è in grado di farlo. Non sussiste nessuna condizione medica che impedisca ad Anna di muoversi a piedi, ma lei pretende che Clara la porti ovunque. Anna diventa incredibilmente esigente e manifesta spaventosi attacchi d'ira se non ottiene ciò che vuole. Minaccia addirittura di togliersi la vita se non l'accontentano. In un'occasione preannuncia che si butterà dalla finestra mentre stringe tra le mani un coltello. In un'altra occasione Anna fa movimenti spericolati davanti a un treno in movimento. Oltre a questo, la ragazzina prova una forte antipatia per i due figli di Clara, che hanno appena 6 e 8 anni e non le hanno fatto nulla di male. Anna è gelosa perché ricevono le attenzioni della madre, che lei vorrebbe solo per sé. Tuttavia, quando Anna sostiene che Jakub e Ondre siano dei prepotenti, Clara si schiera dalla parte della ragazzina. Le dà sempre credito al punto che si rivolta contro i suoi stessi figli, inizia a trascurarli e a concentrare tutte le sue attenzioni sulla misteriosa tredicenne. Ma non è finita qui perché Clara non si prende più cura neanche di se stessa, smette di mangiare e di fare la doccia. In poco tempo perde molto peso e assume un aspetto davvero trasandato. Arriva a dormire solo tre ore a notte e man mano vede sempre meno sia i suoi amici che qualche familiare con cui era rimasta in contatto. Clara diventa l'ombra di Anna, che in quanto a stranezze ne esibisce davvero tante. Per la maggior parte del tempo si comporta come una bambina, ma alcune sue azioni la fanno sembrare molto più grande della sua età. Infatti, se spesso fa i capricci come un adolescente qualsiasi, in certe circostanze diventa fredda e calcolatrice. Anna riesce addirittura a manipolare il prossimo in modo astuto e maturo. Quando disegna, talvolta fa degli scarabocchi, ma altre volte realizza dei disegni che sembrano opera di un artista esperto o quantomeno di un adulto. Inoltre, molte persone commentano i suoi occhi dicendo che non sono quelli di una tredicenne. Ed ecco un risvolto davvero inquietante. I dubbi di quelle persone non sono infondati. Infatti, Anna, in realtà, non è una ragazzina di 13 anni, ma è una donna di 33 anni. Il suo vero nome è Barbara Skrlova e ha finto di essere un adolescente proprio per essere adottata da Clara, che non conosce la verità. Questo caso, come qualcuno saprà, è stato di ispirazione per il film Orphan, che vidi quando ero un adolescente e mi colpì molto. E di recente è uscito anche il prequel, che però, a mio parere, non è bello quanto il primo. Nel film Orphan, una bambina scatena un gran caos nella famiglia che l'ha adottata, ma poi si scopre che in realtà è un'adulta affetta da ipopituitarismo. Questa malattia colpisce la ghiandola dell'ipofisi e lei l'ha sfruttata a proprio favore per spacciarsi per una ragazzina e ingannare il prossimo. Esattamente come Barbara. Dunque, sia lei che la protagonista del film, costruita a sua immagine, sono state rinchiuse in un centro psichiatrico da adolescenti, perché mostravano comportamenti schizofrenici e paranoici. Tuttavia, se pensate che sia questa la parte più sconcertante del caso di oggi, vi sbagliate di grosso. È solo l'inizio. Torniamo alla vita di Barbara, visto che il suo ruolo nella vicenda, come si vince, è cruciale. Ora, io voglio che vi sia chiara una cosa, perché altrimenti non riuscite a capire bene, 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 secondo me il video. Quando sentite che io nomino Anna, è come se nominassi Barbara. Sono la stessa persona. Semplicemente, Barbara è la sua vera identità. Anna è l'identità che si è creata per fingere di essere una tredicenne ed essere adottata da Clara. Detto questo, procediamo. Torniamo alla vita di Barbara, visto che il suo ruolo nella vicenda, come si evince, è davvero cruciale. Barbara nasce il 20 luglio del 1974 nella Repubblica Ceca e cresce con i genitori e due fratelli. Risulta che da bambina venga gravemente trascurata. Sua madre è un'alcoolizzata, mentre suo padre è assente per tutta la sua infanzia. Barbara quindi trascorre la maggior parte del tempo da sola. Quando diventa adolescente, emergono i sospetti sui suoi problemi di salute mentale, tra cui il disturbo dissociativo della personalità e la schizofrenia. Tutti sanno che lei distorce la realtà e pochi anni dopo si scopre che è affetta da questa rara condizione medica. Questa malattia, come accennato, comporta una ridotta o assente secrezione di uno o più ormoni da parte dell'ipofisi, una piccola ghiandola situata alla base del cervello. Barbara quindi non produce sufficienti ormoni della crescita e continua ad avere l'aspetto di una bambina, apparendo molto più giovane dei suoi coetanei adolescenti. Dato che sembra effettivamente una bambina, gli adulti che la circondano la trattano come se lo fosse davvero. Barbara detesta questo trattamento, ma quel tempo decide di sfruttare la sua condizione medica per vendicarsi degli adulti che entrano a far parte della sua vita. Barbara infatti manipola più abilmente gli adulti rispetto ai bambini e si spaccia per una ragazzina dal vissuto traumatico, bisognosa di cure e aiuto. In questo modo ottiene ospitalità, pasti, soldi e attenzioni, ma per lei non è abbastanza. Nel periodo della tarda adolescenza inganna una famiglia fingendo di essere un'orfanella. La famiglia, intenerita, avvia il processo di adozione, proprio come farà Clara più avanti. Tuttavia, prima che l'iter si concluda, le menzogne di Barbara sull'età vengono a galla, quindi l'adozione non va a buon fine. Barbara, scoperta dalle autorità, viene ricoverata in una struttura psichiatrica per sottoporsi a delle cure adeguate, ma riesce a fuggire dalla clinica e individua un'altra famiglia con cui replicare l'inganno. Di nuovo finge di essere un'orfanella bisognosa. Di nuovo la famiglia Bersaglio avvia il processo di adozione e, di nuovo, i suoi piani vengono smascherati. Barbara viene ricoverata in un'altra struttura psichiatrica e ci rimane fino ai suoi 20 anni. Poi viene rilasciata. Tra il 2003 e il 2004 Barbara ha 30 anni e frequenta l'università per studiare musica e arti dello spettacolo. È proprio in questo periodo che conosce Caterina, con cui va immediatamente d'accordo. Caterina e Clara, come sapete, lavorano in un asilo e, ben presto, anche Barbara viene assunta qui. Tuttavia, Clara non l'ha ancora mai incrociata. Dopo qualche mese, Barbara capisce che le conviene di più comportarsi come una bambina, limitandosi a ricevere le attenzioni degli adulti di cui ormai ama nutrirsi. Tuttavia, i due tentativi che ha già attuato sono falliti. Dunque, questa volta deve essere più furba e assicurarsi di non essere scoperta. Non vuole tornare in una struttura psichiatrica e ha il coraggio di raccontare il suo piano folle a Caterina. La cosa altrettanto folle è che Barbara trova complicità in Caterina, la quale, invece di consigliarle un buon dottore, accetta di coprirla. Le aiuterà volentieri a cambiare identità e a fingersi una bambina, anche a discapito di tutti gli altri, sorella compresa. Dunque, Barbara scompare di colpo dal luogo di lavoro e gli altri colleghi non hanno idea di che fine abbia fatto. Barbara, intanto, si esercita per sembrare ancora di più una bambina. Arriva quasi ad affamarsi per perdere peso. Si veste in modo infantile e si sottopone addirittura a un intervento di riduzione del seno e a una liposuzione. A distanza di alcuni mesi dopo essersi ripresa dall'intervento, la donna è pronta per cominciare la sua nuova vita, impersonando una ragazzina di 13 anni di nome Anishka, dettana. Il piano originario prevede che Deborah frequenti il centro fingendosi una bambina, ma poi a Caterina viene in mente un'idea migliore e meno rischiosa. Conosce la persona perfetta che potrebbe adottare Barbara, sua sorella Clara, che lavora anche lei all'asilo. Barbara e Caterina inventano nel dettaglio il tragico passato di Anna, la descrivono come una bambina orfana, vittima di violenze, e bisognosa di cure e di attenzioni, tutto per fare leva sul dispiacere di Clara, che avrebbe così deciso di adottarla immediatamente. In realtà quindi Barbara non è mai stata venduta a una rete di pedo, i suoi genitori non sono morti e non ha nemmeno il cancro. Ecco perché Clara non può mai accompagnarla in ospedale per sostenere le cure. Scoprirebbe che è tutta una bugia. Barbara, dopo i finti trattamenti contro il cancro, torna a casa avvolta in una coperta, e si mostra debole e dolorante. Ovviamente il dottore misterioso che la segue, che si era già occupato della sua riabilitazione psicologica, è una figura inesistente. Sia Barbara che Caterina potrebbero essersi spacciate per il medico, che comunica solo tramite messaggi. E a questo proposito diventa ancora più inquietante la prescrizione relativa ai numerosi massaggi, comprendenti le zone intime, che Clara deve praticare a Barbara. Mi viene da pensare che ci sia dietro una motivazione a sfondo intimo. Arriviamo al 2006. Barbara vive con Clara, Caterina, Jakub e Ondrej, da circa un anno. Clara sta ancora portando avanti il processo legale per l'adozione di Anna, cosa non facile data la falsa identità di quest'ultima. Parliamo di una persona irreale, quindi Caterina e Barbara per ingannare il sistema legale sono riuscite a falsificare il documento di identità e le cartelle cliniche per dimostrare che la ragazzina ha il cancro. Anna non aveva né un certificato di nascita né un passaporto, ma la parte più difficile arriva quando Barbara deve sottoporsi a una visita medica per la verifica dell'età. Tuttavia anche in questo caso Caterina ha un piano. Quale? Beh, Caterina riesce a manipolare una sua amica che ha una figlia di 13 anni. Prende in prestito, diciamo così, la ragazzina e la manda all'appuntamento con il dottore. Lei conferma di essere Anna e di avere 13 anni. Quindi Barbara e Caterina, in pratica, riescono a fregare sia il sistema legale che il medico. Ora Clara viene legalmente autorizzata ad adottare Anishka, alla quale viene consegnato il certificato di nascita. Ha scelto che il giorno del suo compleanno è il 2 dicembre del 1993. Intanto, come procede la vita per i figli biologici di Clara, Jakob e Ondrej? Se ricordate, i due bambini a Barbara non stanno simpatici, tanto che ha iniziato a manipolare Clara per farla rivoltare contro di loro. Clara, succube della figlia adottiva, li trascura. Allora i ragazzini iniziano davvero a disobbedire. Si ribellano e questo rafforza la storia di Anna, che gli accusa di essere dei bulli, sempre pronti a maltrattarla. Hanno in loro la malvagità del padre che li ha abbandonati, sostiene. Clara le crede, sempre, e comincia a punire i suoi figli, ma come risultato Jakob e Ondrej si comportano ancora peggio. Finché un giorno Anna dice a Clara che sa come potrebbe riuscire a disciplinarli e la donna, ormai trentenne, si mette pure a seguire i consigli di una tredicenne traumatizzata, perché questa è Barbara all'apparenza, ricordiamocelo. Di certo Barbara ha fatto a Clara un bel avalgio del cervello. In ogni caso rientra in gioco il dottore misterioso, che tra le mille specializzazioni sarebbe anche un educatore esperto. Ed ecco che arrivano gli sms in cui il medico fantasma spiega a Clara come disciplinare i suoi figli al meglio. Innanzitutto, per far sentire Anna come la benvenuta in casa loro, Clara deve impedire che Jakob e Ondrej facciano i prepotenti con lei, punendoli severamente. In più, il dottore scrive a Clara che i bambini non devono subire alcuna influenza esterna, quindi vanno ritirati dalla scuola. La madre esegue la direttiva, li cancella dall'elenco degli iscritti con la scusa di un trasferimento e comincia a farli studiare a casa. Li priva di qualsiasi contatto con gli altri membri della famiglia, compreso il padre, che incontravano a fine settimana alternati e i nonni, a cui sono tanto legati. Il prossimo passo del famigerato medico è ordinare a Clara di impartire punizioni fisiche ai figli e lei inizia a colpirli con oggetti vari, come un cucchiaio di legno o la fibbia di una cintura. Le punizioni, però, sono anche psicologiche. Infatti i bambini sono costretti a inginocchiarsi in un angolo del salotto per ore e ore senza potersi muovere. Talvolta vengono rinchiusi a lungo in un armadio dove rimangono al buio, senza cibo e nell'impossibilità di andare al bagno. Non possono più nemmeno dormire nei loro letti perché è costretti a coricarsi sul pavimento. Dietro queste spietate disposizioni c'è l'operato di una setta appartenente al movimento del Graal, il cui leader religioso è il padre biologico di Barbara, che si chiama Josef. Il movimento del Graal, organizzazione a sfondo religioso dal respiro internazionale, nasce in Germania verso la fine degli anni 40 e poi si frammenta in molte fazioni eterogenee. Josef è a capo di una soltanto di queste che gestisce a suo modo. Alcune fazioni, ci tengo a sottolinearlo, sono costituite da persone innocue che non fanno del male a nessuno e non si identificano come una setta. Altre invece sono composte da soggetti pericolosi. Ad esempio, un leader di un'altra fazione del movimento del Graal, nel 2008 è stato arrestato per aver schiavizzato le sue adepte. Le sottoponeva ai lavori forzati, le maltrattava attraverso terribili punizioni fisiche e psicologiche, tanto che una di loro, purtroppo, è venuta a mancare. Dopo questo evento, il leader della fazione è stato arrestato e le donne soggiogate sono tornate finalmente libere. Il padre di Barbara, Josef, era diventato il capo di una delle fazioni del movimento del Graal all'inizio degli anni 2000. Nello specifico è il leader della fazione che si trova in Repubblica cieca e, in base alle convinzioni su cui sorregge la sua setta, si può accedere al paradiso semplicemente praticando delle buone azioni che assolvano dai peccati commessi. Dunque, i seguaci di questo culto si sentono liberi di commettere dei crimini e di ammettere degli altri, tanto sarebbe bastata una buona azione per risparmiarli dalle spiacevoli conseguenze delle loro gesta. Inoltre, questa setta, come testimonia il caso di Clara, ha convinzioni drastiche sulla disciplina infantile. Per diventare cittadini buoni e onesti, i bambini vengono cresciuti in modo rigoroso, addirittura crudele. Solo così saranno brave persone da adulti. Barbara, già seguace della setta guidata dal padre, ha convinto anche Caterina a farne parte e ora, nel 2006, dopo essersi insinuata nella vita di Clara, vuole che vi adirisca pure quest'ultima. Caterina collabora affinché riescano a convincerla e, come sapete, Clara cede, lasciando che il dottore le suggerisca come curare gli spiriti maligni dei suoi figli, attraverso una disciplina molto dura, ma necessaria. Ad agosto, sempre attraverso un messaggio, il medico spiega a Clara che per mettere sulla buona strada Jakub e Ondrej, deve mandarli in un campo di rieducazione. Bisogna adottare la tecnica della terapia d'urto e questo non è un consiglio, ma un ordine. Il campo di rieducazione gestito dalla setta è una casetta isolata, circondata dalla natura. Ci sono tre adepti a cui è affidato il compito di educatori. Il 32enne Jan Turek, la 28enne Anna Basova e il 25enne Jan Skörla, che è il fidanzato di Anna. Saranno supportati da Barbara, Caterina e Clara nell'occuparsi di Jakub e Ondrej. Ed ora ascoltate questa assurdità. I bambini, più che essere puniti per gli errori commessi, vengono castigati per gli sbagli che potrebbero commettere in futuro. Un giorno magari vorranno ubriacarsi, marinare la scuola o rubare qualcosa e bisogna agire adesso preventivamente per impedirglielo. Devo avvisare i più sensibili tra voi che adesso il caso assume delle tinte ancora più oscure. Infatti questi poveri bambini subiscono delle vere atrocità. Quando Carla arriva al cottage con i suoi figli, le viene detto che non deve più considerarsi come la loro madre, ma come una tutrice. Jakub e Ondrej vengono portati via dagli altri membri della setta e imprigionati in delle gabbie per cani così piccole che nessuno dei due riesce a starci dentro in piedi. Rimangono qui rinchiusi per quasi tutto il tempo, al buio circondati dai propri escrementi e liberati soltanto quando devono sostenere delle sessioni di riprogrammazione. Dunque mangiano, bevono, dormono ed espletano i propri bisogni fisiologici in queste condizioni ignobili. Anche se le gabbie sono disposte una a fianco all'altra, Jakub e Ondrej non devono parlare tra di loro, quindi è come se fossero soli. Se non si trovano nelle minuscole celle significa che sono legati alle pareti o a un tavolo della casa e vengono costretti a indossare dei collari, tutto affinché non possano scappare. Siccome vengono nutriti a malapena, i due piccolini sono molto molto deboli, ma in ogni caso imparano che non conviene disobbedire e oltrepassare i limiti perché sarebbero stati orribilmente puniti. Quanto alle sessioni di riprogrammazione, Jakub e Ondrej sono obbligati a leggere dei testi dal contenuto volgare e a memorizzarli per poi ripeterli ad alta voce e subire delle punizioni. Tra quelle più crudeli a cui vengono sottoposte nelle settimane successive rientrano delle violente aggressioni. Ai due ragazzini vengono infilati dei sacchi sulla testa e poi i loro aguzzini li frustano con le fibbie delle cinture e con dei pali di bambù. In alternativa, la loro tenera pelle viene graffiata con delle forchette o viene ustionata tramite le sigarette. Le teste di Jakub e Ondrej vengono spesso anche immerse con forza dentro dei sacchi colmi d'acqua. Infatti un giorno Barbara arriva quasi ad annegare Ondrej. Oppure addosso alle piccole vittime viene versata dell'acqua bollente. Queste strazianti punizioni vengono perpetrate soprattutto dai tre membri della setta che vivono nel cottage. Ma anche Barbara, Caterina e persino Clara, la madre dei bambini, partecipano nell'infliggere loro i brutali castighi. Come si può concepire una cosa del genere? Su serio, mi si spezza il cuore a pensarci perché è assurdo anche solo immaginare di maltrattare così dei bambini. Eppure Clara veniva descritta come una brava madre. Dunque, come è arrivata a commettere queste atrocità sulla sua prole? Mentre facevo le mie ricerche, nell'apprendere questi particolari agghiaccianti, l'unico pensiero che riuscivo a formulare era che diavolo stai facendo? Sono i tuoi figli. Clara, vittima di un'abile manipolazione, ha tutto e fatto tutti i suoi bimbi per mesi e mesi, senza sosta. Come potete immaginare, i ragazzini non subiscono un'attura esclusivamente fisica, ma anche psicologica. Gli adepti della setta, ad esempio, tormentano le loro orecchie mettendo della musica industriale a tutto volume e per tutto il giorno, ogni giorno. Questo particolare non può che riportarmi alla mente il caso di Susan Kapper, di cui vi ho già parlato in un video apposito. A Jakub e Andre viene anche detto che ci sono tanti membri della setta nascosti in casa intenzionati a far loro del male. Infatti, tutti gli aguzzini presenti si posizionano un po' ovunque e cantano e urlano senza farsi vedere per convincere i bambini che ci siano molti più complici lì dentro. A un certo punto, ai diabolici seguaci della setta, viene l'idea di mettere i ragazzini l'uno contro l'altro, quindi gli esortano a farsi del male a vicenda. In pratica devono combattere e per questo ricevono anche dei coltelli. In un'altra occasione, Jakub viene costretto a scavarsi una fossa da solo e a infilarsi nella buca, fingendo di essere morto. Poi Andrei viene condotto lì e gli dicono che il fratello è deceduto costringendolo a gettarli addosso della terra. Immaginatevi la sua disperazione. Tuttavia, gli spietati adulti aggiungono che Jakub potrebbe risuscitare, ma Andrei deve comportarsi bene affinché questo accada. Lui obbedisce miracolosamente. Jakub torna in vita. Infine, e vi giuro che non avevo mai letto di un'atrocità del genere prima, Clara viene indotta a riprogrammare materialmente i suoi figli. In sostanza deve crescerli rendendoli degli esseri umani buoni, ma anche facendoli ingrassare, per poi prelevare dei pezzi della carne di uno dei due e distribuirli a tutti i membri della setta li presenti, affinché li mangi. Vorrei tanto dirvi che Clara si è rifiutata di aderire a questo scempio, ma purtroppo, dopo un'iniziale titubanza, accetta. Sceglie di sacrificare il suo figlio minore, Ondrei, tagliandogli un pezzo circolare di carne dalle natiche. Questo strato di pelle viene offerto a tutti gli aguzzini che ne mancano un po' e, in alcune fonti, viene riportato che persino i ragazzini sono costretti ad assicurare. Data per certa questa informazione, ritengo sia una delle notizie più disturbanti e raccapriccianti che si possano apprendere nell'arco di una vita. Jakub e Ondrei sono intrappolati in questo incubo senza risveglio da circa tre mesi. Dopodiché, i tre educatori del cottage dicono che la presenza di Clara non è più necessaria. Può andarsene e portare Barbara con sé. Le due allora vanno alla ricerca di una nuova casa a buon mercato, più grande, isolata, senza troppi vicini che possano ficcare il naso nei loro loschi affari. La individuano nella città di Kyurim e l'immobile viene pagato dalla setta, ovviamente. In questa nuova abitazione, Barbara ha una stanza ben arredata tutta per sé, perché è lei la prescelta, quella a cui spetta di essere trattata meglio. Circa un mese dopo viene deciso che Ondrei, il bimbo più piccolo, può tornare a casa da Clara, mentre Jakub deve rimanere nel cottage. Purtroppo, anche se Ondrei si trasferisce dalla madre, l'incubo di cui è prigioniero non si interrompe. Infatti, appena mette piede in quella dimora infernale, viene condotto in un piccolo seminterrato dove rimane chiuso a chiave per 24 ore su 24, ogni singolo giorno. In questa sorta di seminterrato dove è segregato, Ondrei non ha accesso alla luce naturale, perché non ci sono finestre, né può utilizzare delle lampadine. Dorme per terra, sprovvisto di coperte o cuscini. Si lava come può, usando un secchio con dell'acqua gelida, e non può andare in bagno, quindi i suoi bisogni fisiologici li deve espletare nel seminterrato stesso, che non viene mai, e dico, mai ripulito. Inoltre, lo avvisano. Se avesse vomitato, sarebbe stato costretto a mangiare il suo rigurgito. Per la maggior parte del tempo, il piccino ha sia le caviglie che i polsi legati, quindi non può muoversi, e non gli permettono di indossare dei vestiti. Ondrei vive in queste condizioni disumane per cinque mesi. Ma, fortunatamente, sta per accadere qualcosa che cambierà la sorte sua e quella del fratello, ancora rinchiuso nel cottage in quella dannatissima gabbia per cani. Io vi avviso, sono stanca e un po' malaticcia, quindi non riesco a esprimere tutto il mio disgusto per queste azioni. Ma posso dirvi che, mentre scrivevo il video, ho fatto molte pause, specialmente in queste parti. A un certo punto in una giornata ho proprio interrotto la scrittura di questo video per iniziarne un altro, perché per me era davvero troppo pesante. So che ci sono dei casi peggiori, ma non sono compatibili con YouTube, tipo la famiglia Turpin, e quindi, diciamo che non li ho neanche mai poi così tanto approfonditi. Questa è davvero una storia assurda che mi ha lasciato atterrita. Ma proseguiamo. Arriviamo al 7 maggio 2007, quando un abitante di Kyurim, un uomo di nome Edward, si trova in casa propria e sta cercando di installare un baby monitor per la prima volta. Ha difficoltà a capire come funzioni, poi, all'improvviso sullo schermo, appare un video che riprende un bambino. Ma quello non è mica suo figlio. Il bambino è immortalato in quelle scene inquietanti, è legato e disteso nudo su un pavimento di cemento. Edward, perplesso, si convince che il suo baby monitor sia rotto e che gli fornisca delle immagini reali. pianifica di riportarlo al negozio e intanto prosegue la sua giornata. Ma, per quanto ci provi, non riesce a smettere di pensare a ciò che ha visto. E se quel povero bambino sdraiato sul pavimento di cemento fosse reale? Edward, ancora impensierito e preoccupato, racconta tutto a sua moglie. Insieme, quindi, decidono di riaccendere il baby monitor ed ecco che il bambino sconosciuto riappare sullo schermo. Vaga in una stanza minuscola, è molto sporco e mangia qualcosa dal pavimento. Edward e sua moglie, turbati da queste immagini, allertano la polizia che arriva sul posto velocemente e analizza quelle scene. Gli agenti spiegano a Edward e a sua moglie che il loro baby monitor ha captato il segnale di un altro apparecchio dello stesso tipo installato in una casa nelle vicinanze. Dal filmato è possibile anche sentire la musica di sottofondo. Infatti, come già vi ho detto, i membri della setta la mettono a tutto volume come forma di pulizione. La polizia quindi esce dalla casa di Edward e intuisce da dove proviene questa musica. Da una casa di fronte. Gli agenti bussano e apre una donna sulla trentina, ossia Clara, alla quale dicono che stanno cercando un bambino. La ragazza risponde che lei no, non ne sa nulla, non ci sono bambini nella casa in cui vive. Edward però nel frattempo sta continuando a guardare il baby monitor e comunica alla polizia che riesce a sentire la voce dell'ufficiale attraverso l'apparecchio. Dunque, non ci sono dubbi, è questa l'abitazione giusta. Di conseguenza, gli agenti vi si introducono con la forza. Individuano la porta del seminterrato chiusa a chiave con un lucchetto e si adoperano per sfondarla quando all'improvviso da il nulla spunta una ragazzina dice di chiamarsi Anna ma noi sappiamo che si tratta della 34enne Barbara. La finta ragazzina inizia a urlare mamma, mamma, cosa sta succedendo? Poi corre verso gli agenti di polizia, si aggrappa alla gamba di uno di loro ed esclama ripetutamente no, no, no. Vuole chiaramente impedire ai poliziotti di arrivare nell'angusto seminterrato e loro non si rendono conto di avere a che fare con una donna adulta pensano sia un'altra bambina da salvare mentre la trattengono rompono il lucchetto del seminterrato e trovano finalmente il piccolo Andrej nudo legato e denutrito l'ambiente minuscolo è invaso da vomito urina ed escrementi il bimbo verso in condizioni terribili subisce maltrattamenti da quasi un anno ma per fortuna ora viene salvato Clara viene arrestata immediatamente e con lei Caterina che si trovava a casa della sorella quando la polizia è arrivata al contrario Anna cioè Barbara scambiata per una tredicenne per una vittima viene portata in un rifugio per bambini insieme a Andrej la polizia scopre dell'esistenza del fratello maggiore Jakub ma non sa dove sia noi però lo sappiamo Jakub vive ancora nel cottage con gli altri membri della sette e quali ora stranamente gli permettono di frequentare la scuola pubblica questa è una decisione che nella sua normalità sorprende visto che una delle regole della folle setta prevede che i bambini non abbiano influenze esterne inoltre io non capisco che senso ha tenere un ragazzino dentro delle gabbie per cani e poi mandarlo a scuola potrebbe parlare potrebbe dire qualcosa agli insegnanti è rischioso anche se immagino che Jakub fosse davvero tanto tanto spaventato poverino ad ogni modo il fatto che Jakub frequenti la scuola è una fortuna perché per la polizia è più facile rintracciarlo recuperarlo e portarlo in salvo ora i due fratelli sono nuovamente insieme anche se entrambi versano in uno stato tremendo la loro pelle è segnata da cicatrici tagli e contusioni sono molto palidi e malnutriti esibiscono gravi danni psicologici a causa di ciò che hanno subito dopo alcuni esami infatti emerge che soffrono di disturbi dell'umore e dello sviluppo a questo punto hanno 8 e 10 anni con estrema tristezza tutti constatano che Jakub e Andre non si comportano come i loro coetanei devono imparare di nuovo le abitudini e le azioni più banali come dormire in un letto usare il coltello e la forchetta per mangiare parlare correttamente ieri era stato persino impedito di comunicare e ora non riescono più a farlo dopo una lunga riabilitazione i ragazzi cominciano a raccontare il dramma che hanno vissuto solo adesso le autorità comprendono la portata degli aborti e delle torre a cui sono stati sottoposti Jakub e Andrej si dimostrano molto coraggiosi nel raccontare la loro storia perché questo implica rivivere con la mente quegli orribili mesi la 7 inoltre li aveva anche minacciati se mai avessero riferito a qualcuno cosa gli era stato fatto li avrebbero rintracciati e uccisi per fortuna non molto tempo dopo i due ragazzini cominciano a vivere una vita normale si riuniscono al padre e ai nonni che si prendono amorevolmente cura di loro e frequentano di nuovo la scuola questa storia però non si conclude qui perché come ricorderete anche Anna slash Barbara era stata salvata in effetti inizialmente era sotto la protezione del rifugio per bambini proprio come Andrej e Jakub le autorità pensavano che anche lei dovesse essere assistita e riabilitata convinti che fosse un'altra vittima di quelle menti malate e non una di loro ma dopo alcuni giorni la finta ragazzina è scappata da una finestra e la polizia ipotizza che sia stata rapita dalle persone che l'avevano imprigionata gli agenti la cercano la cercano ovunque senza ottenere risultati poi proprio la stessa Anna si mette in contatto con loro attraverso una lettera dove scrive che sua madre Clara è completamente innocente e che Jakub e Andrej si stanno inventando tutto la polizia non crede alle sue parole perché vede con i propri occhi cosa hanno passato quei due ragazzini poi studiando la lettera i detective arrivano alla conclusione che non può essere opera di una tredicenne la scrittura è troppo matura la polizia a questo punto si insospettisce e tappezza la zona con le foto di Anna bisogna assolutamente trovarla il prima possibile finalmente qualche giorno dopo qualcuno la riconosce e chiama la polizia per dire che quella ritratta nella foto non è una tredicenne e non si chiama Anna si tratta della 34enne Barbara Skrlova la polizia resta sbigottita da questa scoperta e scava nell'archivio per effettuare il confronto tra il DNA prelevato da Anna e quello schedato appartenente a Barbara ed ecco che emerge la conferma Barbara e Anna sono la stessa persona e l'identità di quest'ultima è chiaramente falsa la polizia rende pubbliche queste informazioni comunicando che sta cercando Barbara e rivelando alcuni dettagli sul caso riguardo alla setta agli abbi sui minori e ai vari tentativi di Barbara di fingersi un'orfana per farsi adottare l'opinione pubblica ne rimane sconvolta perché questa vicenda si colloca ai confini tra il reale e l'assurdo uno dei principali giornali della Repubblica cieca offre una ricompensa a chiunque fornisca una qualsiasi informazione su Barbara che sembra scomparsa dalla faccia della terra passano ben sette mesi e qualcosa sta finalmente per cambiare le cose si mettono male anche per Barbara la domanda che tutti vi starete ponendo è beh dove si trova dove è stata tutto questo tempo e come ha fatto a nascondersi ve lo dico subito Barbara si è rifugiata in Norvegia e ha di nuovo cambiato identità ora finge addirittura di essere un bambino di 13 anni di nome Adam dopo la fuga dal centro di assistenza per bambini Barbara è riuscita a rintracciare alcuni membri della setta prima che venissero arrestati e loro le hanno procurato un passaporto falso qualcuno l'ha addirittura accompagnata in Norvegia dove si è iscritta a un collegio sotto la falsa identità di un tredicenne chiamato Adam qui Barbara l'ha fatta franca per sette mesi ma ormai la pacchia sta per finire il personale del collegio nutre infatti dei sospetti su Adam che sembra troppo maturo per un ragazzino della sua età il suo comportamento è preoccupante e la scuola comincia a scavare nel suo passato Barbara però percepisce che qualcosa non va e scompare di nuovo viene quindi informata la polizia e parte la ricerca per intracciare Adam la foto del ragazzino circola ovunque finalmente riescono a trovarlo nel nord del paese una volta preso in custodia la vera identità di Adam viene rivelata è sempre e ancora lei Barbara l'impostora viene estradata dalla Norvegia e riportata nella Repubblica Ceca finalmente i colpevoli sono tutti in custodia e il caso va a processo Barbara si presenta in aula stringendo tra le mani un orsacchiotto e un libro per bambini è accusata di a**i sui minori e di aver dichiarato delle false identità Clara e Caterina invece devono affrontare delle accuse sia di a**i che di a**i sui minori sono presenti anche i tre brutali aguzzini che vivevano nel cottage Jan Turek Hannah Basova e Jan Skrla mentre il padre di Barbara Josef il leader della setta è fuggito e ad oggi non è ancora stato rintracciato durante il processo si ritiene che i problemi di salute mentale di Barbara non sono correlati ai suoi tentativi di costruire false identità per essere adottata e all'esercizio di a**i sui minori anche Clara e Caterina vengono ritenute idonee ad affrontare il tribunale e quando Clara prende la parola scoppia a piangere lei non si prende alcuna responsabilità per le azioni che ha commesso ma cerca solo di incolpare tutti gli altri sostiene di essere stata manipolata da Barbara da Caterina dal dottore inesistente e dai membri della setta si dice dispiaciuta per ciò che ha fatto ma aggiunge che stava solo cercando di fare il meglio per i suoi figli quando Caterina va al banco dei testimoni cerca di difendere Barbara e dà la colpa di tutto a sua sorella Clara la quale si alza in piedi e la insulta davanti ai giudici infine prende la parola proprio Barbara che assume un comportamento infantile nel tentativo di dipingersi come un innocente dice che Jakub e Andrej facevano i bulli e se la prendevano con lei quindi quei due ragazzini meritavano il trattamento che hanno subito il 23 ottobre del 2008 tutti gli imputati vengono giudicati colpevoli delle rispettive accuse quindi si potrebbe dire che giustizia è stata fatta ma non per me perché queste sentenze sono incredibilmente indulgenti sono davvero ridicole ora ne parliamo Hanna Basova e Jan Skörla vengono condannati a sette anni di detenzione ciascuno per incitazione agli aborti su minori e per il materiale fotografico in cui hanno immortalato le sevizie Jan Turek viene condannato a cinque anni di prigione perché accusato di complicità in relazione agli aborti ma con un ruolo marginale Clara viene condannata a soli nove anni di carcere e Caterina a soli dieci anni perché ha ritenuto entrambe parzialmente incapaci di intendere e di volere e infine Barbara viene condannata a soli cinque anni dietro alle sbarre perché il suo ruolo è stato considerato marginale nell'attuazione delle sevizie onestamente questa è una pena che mi fa cadere la mascella considerando che aveva lei concepito il piano e quei maltrattamenti e che è colpevole anche di fuga e di depistaggio questo caso si è verificato quindici anni fa quindi tutti i criminali coinvolti sono già stati rilasciati e sono liberi di condurre la propria vita ma ci rendiamo conto? leggere di pene così blande fa rabbia considerando che Jakob e Andrej non saranno mai liberi nell'anima barchiata per sempre da ciò che hanno subito purtroppo Barbara è stata rilasciata nel 2012 ha cambiato ancora identità e vive con una pensione di invalidità non si sa esattamente dove sia probabilmente in Repubblica Ceca Clara è stata rilasciata ancora prima di quanto previsto nel 2013 non ha più alcun diritto di custodia sui suoi figli grazie a Dio aggiungerei Caterina è stata rilasciata nel 2014 e di lei non si sa assolutamente niente credo onestamente che questo sia uno dei casi peggiori tra quelli che vi ho raccontato infatti giunta alla conclusione del video mi sento come svuotata non si rivela alcun muovente per ciò che queste persone hanno fatto Barbara cercava in modo folle una figura genitoriale e delle attenzioni e non capisco perché Clara l'abbia secondata fino a quel punto per non parlare di Caterina che si è messa in combutta con Barbara per ingannare la propria sorella e non mi è chiaro neanche cosa volessero ottenere i membri della setta ci sono delle speculazioni a riguardo qualcuno suppone che il trattamento feroce riservato ai due ragazzini dato che è stato filmato fosse destinato alla vendita sul dark web dove gli utenti predatori avrebbero potuto guardare il video dopo aver pagato però sappiate che non sussistono proprio a sostegno di questa teoria e le autorità pensano che le telecamere installate nel cottage e il baby monitor collegato al semi interrato della nuova casa servissero come strumenti di sorveglianza voglio concludere questo video parlando delle vittime del caso di oggi Jakub e Ondrej dopo il processo entrambi sono stati assistiti dalle autorità e affidati alla custodia dei nonni come detto hanno anche ricominciato a vedere il padre sempre più spesso hanno ripreso a frequentare la scuola e si sono sottoposti a una lunga terapia entrambi i ragazzi si sono ripresi tuttavia quei traumi psicologici li accompagneranno per il resto della loro vita crescendo hanno deciso di andare a trovare la madre in carcere nel 2013 quando Clara è stata rilasciata Jakub aveva 15 anni e Ondrej 13 e hanno ripreso a frequentarla di tanto in tanto per ricostruire una sorta di relazione con lei non so come sia andata a finire onestamente sono passati più di 10 anni ma spero che questi ragazzi oggi stiano bene perché si meritano solo il meglio credo che quella di perdonare la madre è stata di certo una scelta matura e anche molto difficile spero davvero che li attenda un futuro luminoso e felice e questo ci porta alla fine del video di oggi per me è scioccante ve lo dico non so che cosa aggiungere più di quello che ho già detto per me è assurda questa storia già è assurdo che una donna di 30 anni finga di essere una bambina di 13 ma poi c'è in mezzo anche la setta il cottage cioè questo caso è un mix di follia un mix di follia davvero non è stato facile scriverlo non è stato facile fare questo video spero però che insomma io abbia riportato questo caso nel miglior modo possibile onestamente alcune cose le ho tralasciate lo ammetto perché erano troppo pesanti troppo pesanti a mio avviso però ecco non è che abbia tolto chissà che parti importanti diciamo la storia è andata così fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso terribile e scioccante che davvero mi ha lasciato a bocca aperta mi ha lasciato dalla bocca aperta dall'inizio alla fine perché poi ho scoperto le varie condanne le varie pene e lì proprio sono rimasta senza parole cioè ho fatto anche più ricerche incrociate per capire se magari stessi leggendo delle fonti inesatte che riportavano informazioni non corrette e invece no e invece no ragazzi e ragazze è proprio così è proprio vero e niente fatemi sapere insomma cosa ne pensate di questo caso assurdo bizzarro e folle come al solito quindi ci becchiamo nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti